per mettere stai moriamo oh no stai moriamo è colpa tua ah ok se scendevamo dall'alto arrivavamo, non ti permette che fu non hai permesso che andassi ci stanno prendendo la zona ho scelto ma io non ci arrivo sta arrivando sta arrivando un treno per spostarmi si e perchè come perchè? devi passare cosa fai? vuoi sapere che sono io? vuoi sapere che sono io? cosa? io sono spiderman non ci credo spiderman guarda visto? mamma mia incredibile troppo forte mega nero puro l'ho ucciso ed è quello che farò pure con te guarda si fermo si fermo non guardare sopra non guardare sopra che bello il fuoco guarda oh 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 ok ora Sì, grazie! Ok, adesso vado gli stili! Oh! Guarda, guarda, guarda! Oh! Muter mano! Ma non c'è cammino! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Mamma, che c'è la fai la moto! Metti fuori, ti fuori di te! Mi sa! Oh! Si vanno, si vanno! Guarda, 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 guarda! Mamma mia! Poi forza la nostra moto! Sai che cosa? Non mi vede? Ti fебak upfront? S��니ac... Aranjek! Ma rosanek è mortala la lave! Ma... Era! Joo! Vi sono bloccato! In 쪽... il lecce vendola benzina lecce